Buongiorno, questa mattina vi saluto da l'abbazia di San Benedetto e Mauro sul fiume Tronto. Una chiesetta stupenda, incredibile, bella veramente, con un parco a due passi dalla superstrada, che gli passa sopra, ed è incantevole. C'è un parco di fronte alla chiesa, con panche per il ristoro. Poi oggi, giornata autunnale, incredibile, ci saranno un minimo 20 gradi. Questa è la chiesetta. È di una bellezza incredibile. Sottostante a questa chiesa c'è un altro parco. Dove. Buongiorno. Adesso andiamo a scendere perché faccio vedere, c'è una pista ciclopedonale che faccio quasi tutte le mattine, a piedi, ed estate anche in bicicletta. o o o o o o o o o Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi scendendo più in basso si va verso il fiume, qui sotto a 20-30 metri passa a scorre il fiume Tronto. Da qui è stata costruita una pista ciclo pedonale che attualmente parte da Cento Buchi di Monte Prandone e arriva fino a Castel di Lama. Poi prossimamente, questo è entro primavera, hanno iniziato i lavori per aggiungerla a un altro tratto che la congiunge con una pista ciclo pedonale di Ascoli-Bigeno. Questa è la ciclovia. Ok, adesso vi saluto perché è ora di pranzo e vado a mangiare. Arrivederci.